ciao a tutti ragazzi buongiorno da favore le kitchen oggi torneremo di nuovo all'attacco con una curiosità un po di tempo fa ho visto su internet questi panini cinesi morbidissimi bianchi come se fossero pane arabo e hanno una particolarità che sono cotti al vapore e non che sono veramente morbidissimi e quindi ho deciso di provare a farli che dire sono facilissimi da fare però ci vuole un pochino di pazienza perché ci vogliono almeno tre ore di limitazione se siete curiosi vi faccio vedere quali sono le modalità di preparazione ma vi assicuro che non ve ne pentirete provate a farli con me a a a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.